Sono tornata dove tutto è iniziato. A volte basta un pensiero per perdermi in un mio disegno, ma nel mio disegno mi ritrovo. Non ho mai freddo nell'urgenza di creare. I miei bijoux nascono così, con la velocità di un brivido dal battito del cuore. Ma da sempre preferito rimanere qua, a dare una passione differente alle ragioni del rumore. Sono tornata dove tutto è iniziato e da qui riparto. A volte una visione più distante è tutto quello che so fare. A volte fare tutto dal distante vale quanto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.